Ancora una serata all'insegna del divertimento al Teatro dei Vigilanti, questa volta ad appassionare il pubblico elbano, è stata la commedia di Molière L'Intellettuali, interpretata dalla compagnia milanesa Elsinore. Lo spettacolo, che debuttò nel 1672 al Palais Royal di Parigi, presenta, con ironia e brillantezza, la borghesia francese di fine 600, dove spesso la scelta dello sposo per la propria figlia non metteva d'accordo tutti i membri della famiglia. Ma conosciamo meglio chi sono i personaggi. Io sono Clitandro, che definiamo innamorato, come si diceva un tempo, di prima di una delle due sorelle e poi della seconda, diciamo, per interesse. Armanda è la prima innamorata a questo punto di Clitandro. Io invece sono lo zio Aristo e faccio di tutto per far sposare, per muovere la macchina teatrale di questo matrimonio. Io sono Filamenta e sono la madre delle due fanciule che si contendono l'amore del giovane innamorato. Io sono Enrichetta, sono la figlia minore, sorella di Armanda, lei intellettuale e io materialista. Io sono Crisalo, il padre delle due ragazze e marito sfortunato di Filamenta. Io interpreto Belisa e sono una zia, diciamo, zittella, che pensa che tutti gli uomini siano innamorati di lei semplicemente perché la guardano.